Benvenuti a questo modulo di mineralogia del corso di Geomateriali, questa è una riregistrazione della lezione numero 1, che per motivi tecnici non era stata registrata nel giorno che è stata fatta la lezione sincrona, quindi sarà una sintesi delle cose che sono state dette quel giorno, i miei recapiti sono l'indirizzo email, qui potete iscrivermi per sottoporvi qualsiasi tipo di domanda relativa al corso, approfondimenti, chiarimenti, disponibilità a tenere delle parti che non gli sono state chiare, anche usando Webex, il mio telefono è questo, 011 670 5131, quando sono presenti in ufficio, e sono distanze via Valperga-Caluso 35. Come prima cosa il materiale di studio, allora diciamo che esistono due testi che io posso consigliare, se uno volesse approfondire, naturalmente questo modulo, così cos'è anche quello del professor Bruno, non richiede altro materiale aggiuntivo rispetto alle lezioni che facciamo e che sono anche registrate, rispetto alle slide PowerPoint o PDF che carichiamo su Moodle, però per chi volesse approfondire ulteriormente l'argomento, perché si scopre improvvisamente appassionato di mineralogia, esistono almeno due testi che posso consigliare, uno è Klein, mineralogia della Zanichelli tradotto in italiano, è un testo classico che tratta sia di aspetti metodologici per lo studio dei minerali, sia di aspetti sistematici, quindi c'è tutta la parte di mineralogia sistematica, è un po' vecchio come impostazione, uno che preferisco è che però ha il problema, per chi non conosca bene l'inglese, di essere non tradotto in italiano e in inglese, fareste bene in realtà ad abituarvi a studiare anche su testi inglesi, quindi senza passare per le traduzioni che non sempre sono fatte in maniera ottimale, questo è un testo di impostazione più moderna, Andrew Putnis, Introduction to Mineral Sciences in cui si mettono insieme aspetti metodologici relativi a vari strumenti di indagine che si usano nella mineralogia, si mettono insieme aspetti termodinamici, applicazioni nel campo della petrologia e aspetti termodinamici soprattutto e poi c'è una parte di sistematica non così estesa come la parte di sistematica nel testo di Klein, però che è sufficiente per approfondimenti anche abbastanza spinti sulla tematica. Manca una parte di ottica mineralogica che invece è presente sulla mineralogia di Klein che d'altra parte è utile a chi poi voglia fare una parte di petrologia molto più approfondita rispetto a quello che viene fatto in questo corso. Per quanto riguarda le modalità di esame, è quasi sicuro che almeno i primi appelli di questo esame saranno tenuti online anche utilizzando la piattaforma Webex e in questo caso si prevede una prova semplicemente orale in cui facciamo delle domande sulle varie parti affrontate sui vari moduli e gli argomenti di questo modulo di mineralogia sono normalmente oggetto di una o due domande, una mia o una o due mie e una o due di Marco Bruno che fa la parte di mineralogia sistematica. Poi c'è una domanda fatta dal professor Borghi. Allora innanzitutto i minerali, perché si studiano i minerali? Allora in questo corso avete una parte sui geomateriali, Borghi vi fa la parte di petrologia, cioè di rocce, le rocce sono costituite da minerali e quindi per studiare le rocce uno deve conoscere i minerali che le compongono, almeno alcune questioni relative ai minerali che le compongono. Poco più avanti questa lezione vedremo anche qual è esattamente la definizione che si può dare di roccia da un punto di vista petrologico e termodinamico, ma così dal punto di vista logico è conveniente partire dalla definizione di minerale che è appunto costituente fondamentale di una roccia. Allora cosa sono i minerali e come normalmente si presentano? Allora chi ha in mente i minerali e ha in mente quello che ha visto magari nelle mostre dedicate ai minerali, ha in mente quello che vede nei negozi che vendono i minerali nelle vetrine dove sono presentati cristalli normalmente macroscopici con una forma abbastanza ben definita, regolare, con un certo colore caratteristico e questi che vedete qui sono certamente la metista, la fluorite, il quarzo con l'inclusione di rutilo all'interno, sono certamente minerali che avete visto da qualche parte, come dicevo in mostre o in negozi vari. Questi sono certamente minerali ma non sono quelli che normalmente potete trovare in natura, questi si trovano in condizioni particolari, provengono da giacimenti particolari, ma la maggioranza dei minerali che uno può osservare in natura, può calpestare quando cammina su un sentiero in montagna o su un terreno non antropizzato dove non è presente asfalto per esempio, si presenta in maniera totalmente diversa. Allora qui sulla colonna di destra avete due esempi ancora di come non si presentano in modo comune i minerali salvo appunto qualche eccezione, un esempio di granato, vedete questo granato si chiama almandino, ha questa composizione, poi più avanti scendiamo abbastanza in dettaglio sulle formule cristallochimiche, questa è una tipica formula cristallochimica, ha un certo coloro, una forma molto ben definita, quest'altro è un altro esempio, pirosseno, un altro minerale con un'altra formula cristallochimica, un colore più o meno definito, una morfologia definita, ma questo appunto non è il modo con cui si presentano comunemente i minerali. Questi invece sono degli esempi più tipici, più comuni, questa è una roccia, si chiama eclogite, queste rocce qui le studierete con borghi, dentro all'interno ci sono minerali, è un insieme di minerali che non si presentano con la forma in cui li vedete in queste immagini, quindi questi granuli arancioni, arancione scuro, granata, sono essenzialmente granati, quindi la stessa cosa che avete qui, la stessa sostanza che avete qui la trovate nella roccia in questa forma, molto meno evidente, avete del pirosseno che è il minerale verde che compare qui, che è un esempio di questo pirosseno che avete qui, e del quarzo, queste zone biancastre che sono certamente differenti da come siete abituati a vedere il quarzo nelle letrine. E questa è già una roccia in cui i minerali sono visibili, riconoscibili a occhio nudo, anche se uno non ha una grande competenza mineralogica, basta aver studiato le eclogite e sapere quali sono i minerali componenti caratteristici per arrivare a identificarli nella roccia. Questo è un altro esempio tipico, un granito, si distinguono i singoli minerali a occhio nudo, avete questi granuli neri che sono biotite, che poi studierete con Marco Bruno, avete queste zone rosa che sono felspati, poi vedremo più avanti di cosa si tratta, vedremo probabilmente nella seconda lezione, e poi avete plagioclasi, avete quarzo che sono altre zone, le zone biancastre grigie che vedete in questa sezione. Meno visibili sono i minerali in un terreno argilloso, anche qui questo è un modo molto comune di avere i minerali, questo è essenzialmente un'argilla essiccata probabilmente, quindi avete un ammasso di minerali che si presentano in forma cripto, micro, cripto cristallina, quindi molto piccoli, non si distinguono cristalli ad occhio nudo e molto probabilmente in un terreno di questo genere sono compresi anche non solo minerali cristallini, ma sono anche presenti minerali amorfi, cioè una componente amorfa piuttosto importante. La maggioranza dei minerali si presenta in forma cristallina, quindi sono cristalli, però avete anche un certo numero di minerali che sono in forma amorfa, quindi senza una struttura interna di tipo cristallino. L'osservazione delle rocce, quindi dei minerali e il riconoscimento dei minerali che le compongono si fa molto spesso utilizzando un microscopio polarizzatore, come questo che vedete rappresentato qui in figura, che sfrutta, innanzitutto si fa un'osservazione su una sezione che si chiama sezione sottile con una spessore standard di 30 micron, quindi si prende la roccia di partenza, la si taglia e la si assottilia fino a dimensioni di 30 micron e poi la si va a guardare in luce polarizzata, dove è presente un microscopio del genere, avete sotto il campione che è messo su questo piattello, sotto avete una lamina polarizzatrice, quindi si chiama il polarizzatore, che crea un fascio di luce polarizzata e poi al di sopra del minerale è presente, e quindi è presente il blocco obiettivo, è presente l'analizzatore, cioè una seconda lamina polarizzatrice che può essere messa, normalmente si mette in due posizioni caratteristiche, il cosiddetto polarizzatori paralleli, in cui la lamina analizzatrice è parallela all'asse di polarizzazione, è parallelo al polarizzatore e in condizioni incrociate, in cui la lamina analizzatrice è messa con un asse di polarizzazione che è perpendicolare al polarizzatore. I minerali emergono, hanno diverse caratteristiche ottiche che si rivelano poi al microscopio polarizzatore e in base alle caratteristiche ottiche, al colore che assumono quando si è in condizioni parallele, in condizioni di polarizzazione incrociati, si possono distinguere, quindi per esempio avete con i polarizzatori incrociati il granato è per esempio scuro, si dice che è estinto, perché il granato è isotropo dal punto di vista ottico, quindi non cambia la direzione del fascio polarizzato, che vuol dire che la luce che passa attraverso il polarizzatore arriva con lo stesso piano di polarizzazione sull'analizzatore che è messo a 90 gradi rispetto al polarizzatore, quindi non passa ulteriormente, il polarizzatore lo blocca completamente, quindi il granato appare nero, mentre altri minerali, per esempio il pirosseno, il quarzo, ruotano il piano della luce polarizzata, perché non sono otticamente isotropi e quindi una certa componente, che poi dipende anche dalla lunghezza d'onda, del fascio di luce, passa attraverso l'analizzatore, finisce nell'oculare e quindi lo vedete colorato. La colorazione che ottenete è dipendente sia dallo spessore della lamina e sia dal tipo di minerale, quindi usando lamine sempre con lo stesso spessore standard, in questo caso i 30 micron, voi potete riconoscere i minerali presenti in base al colore che assumono e ad altre caratteristiche, su cui adesso non è più un mestiere da petrografi. Allora, innanzitutto cos'è un minerale? Un minerale ha una definizione di questo genere, una sostanza inorganica, allo stato solido, molto comunemente cristallino e che sia di origine naturale. Queste sono condizioni specifiche per definire il minerale. In realtà adesso sono annoverate tra minerali e anche sostanze che non sono completamente organiche, possono avere anche una componente organica, ma sempre ci si riferisce allo stato solido e sempre deve essere un qualche cosa, una sostanza che sia di origine naturale, perché possono esistere anche sostanze che vengono prodotte in laboratorio inorganiche cristalline, che però non hanno un corrispettivo in natura, non sono mai state trovate in natura e per questo non sono considerate minerali. Questa è una decisione presa da una commissione che si occupa dei nuovi minerali, una commissione che fa parte di un'associazione internazionale di mineralogia, International Minerological Association, che ha un po' il ruolo della IUPAC nel caso della chimica, che stabilisce regole per definire le sostanze, regole per assegnare i nomi e le unità di misura, cose di questo genere, ne esiste un'analoga che si occupa specificamente di minerali e che si chiama IMA e insieme a questa associazione è presente questa commissione che si occupa delle regole per poter assegnare i nomi minerali e per definire esattamente che cosa sono i minerali. Quindi devono essere di origine naturale e su alcuni libri di testo è scritto in maniera non del tutto corretta che i minerali devono avere una composizione definita. In realtà questa non è una composizione ben specifica, in realtà questo non è corretto perché molti minerali formano le cosiddette soluzioni solide o meglio si parla gergalmente di soluzioni solide, in realtà si intende miscele omogenee perché il termine soluzione implica la presenza di un solvente, di un soluto come dovreste sapere essendo chimici, ma gergalmente si riferisce solo alle soluzioni solide anche quando si parla di miscele omogenee. Poiché formano soluzioni solide in generale il minerale non ha una composizione ben definita perché questo può cambiare entro dei range compositivi abbastanza vari come poi vedremo più avanti. Il fatto che i minerali debbano avere origine naturale può avere un impatto sul nome che viene assegnato ai minerali, c'è un caso tipico che esiste, che uso sempre come esempio in questo caso, esiste per esempio un silicato di magnesio che ha questa composizione MGSO3 che si sa ormai fare parte del mantello terrestre inferiore, quindi a pressioni sopra i 27-30 GPa e a profondità che sono nell'ordine di 700 km fino a circa 2.900 km, 3.000 km che è il confine tra il mantello inferiore terrestre del nucleo. Per varie ragioni, non sto a entrare nel dettaglio, si ritiene che questo minerale, questo silicato di magnesio sia di composizione MGSO3 e costituisca circa il 50% in peso del mantello inferiore. Questa è un'ipotesi che è stata fatta da un certo numero di anni e questo minerale ha una struttura che è di tipo peroschite, sapete cos'è la peroschite? Forse l'avete studiato, è una struttura tipo che si studia nei corsi elementari di chimica, la peroschite tipica è quella di CaTiO3, quindi un titanato di calcio, col titanio che va a occupare dei siti a coordinazione taedrica e il magnesio che occupa dei siti a coordinazione taedrica al centro della cella cubica e in questo caso di questa MGSO3 abbiamo il silicio che va a occupare una posizione taedrica, è al posto del titanio e il magnesio che occupa una posizione cubica, quindi è stata sintetizzata in laboratorio, ma poiché non era mai stato trovato un corrispettivo naturale, questa sostanza era stata sintetizzata in laboratorio e quindi era stata caratterizzata, perciò si sapeva che aveva una struttura tipo peroschite, ma non era mai stata ritrovata in natura, non abbiamo minerali che propongono, rocce che provengono dal mantello inferiore terrestre, che potessero contenere questa peroschite e perciò in natura non era mai stata trovata e veniva chiamata semplicemente magnesio peroschite, non considerata un minerale, quindi l'oggetto sintetizzato in laboratorio non poteva essere considerato un minerale e non gli si poteva assegnare un nome ufficiale, quindi lo si chiamava semplicemente magnesio peroschite. Dopodiché è stata ritrovata non tanti anni fa all'interno di un meteorite prodotto probabilmente nello spazio per collisione di asteroidi, sono impatti che generano pressioni molto elevate, quindi si è formata la peroschite e questo meteorite è stato ritrovato sulla Terra, l'inclusione è stata trovata caratterizzata e si è visto che era proprio questo oggetto qui, questa magnesio peroschite. Allora da quel momento è stata considerata un minerale, gli si è potuto assegnare un nome e questo nome assegnato si chiama Bridgmanite, in onore di un certo Bridgman che è un insigne mineralogista. Allora qui un'abitudine che è stata ormai consolidata in campo mineralogico è appunto quello di assegnare i nomi dei minerali nuovi che vengono ritrovati, se ne scoprono circa 200 all'anno come specie nuove, è quella di dedicarli a degli insigne mineralogisti, assegnando i nomi che non hanno niente a che vedere con il tipo di minerale, la sostanza che è, la morfologia che ha, la simmetria, il colore o cose del genere, cosa che invece si faceva in passato, i nomi dei minerali erano dati in funzione di alcune caratteristiche o del luogo di ritrovamento del minerale nel suo campo specifico. Quindi questa non è una cosa positiva, le regole di questa commissione sono contestate da molti, quindi assegnare i nomi dei minerali che non aiutano assolutamente a ricordare o a far riferimento a quello che quel minerale rappresenta, che cos'è. Allora ad oggi sono note circa 5000 specie di minerali, come dicevo ogni anno ne vengono scoperte circa 200 nuove, però i minerali più importanti in termini di abbondanza, quelli che vanno a costituire le rocce, quindi quelli che vengono chiamati i rock forming mineral, sono in numero molto inferiore a questo, l'ordine di grandezza è intorno alle decine, quindi 10, 20, 30, 40, anche 50 minerali che sono rock forming minerals, ma non di più. Poi esistono un certo numero di altri minerali che vengono detti accessori, che non sono rock forming minerals, nel senso che come abbondanza non è elevata, ma sono ubiqui, si trovano un po' in tutte le rocce, in molte rocce trovate per esempio lo zircone, che è un silicato di zirconio, trovate il rutilo, che è un ossido, lo dovreste conoscere il rutilo, il TiO2, un ossido di titanio, questi non sono minerali che da soli vanno a formare delle rocce importanti, però li trovate distribuiti un po' in tutte le rocce, quindi si chiamano minerali accessori, quasi sempre presenti, ma non sono molti. La maggioranza dei 5000 minerali noti sono invece rarissimi, si formano in contesti petrogenetici molto circoscritti, particolari, li trovate al più in qualche collezione, o privata, oppure anche museale, ma non hanno un grande interesse dal punto di vista petrologico, invece lo sono dal punto di vista del collezionista, perché poi essendo rarissimi, anche cristalli dell'ordine del micron, come dimensioni di pochi millimetri, hanno un grande valore economico che glielo dà il mercato, non hanno un valore scientifico, ma hanno un valore economico. Nelle mostre vedete minerali anche macroscopici, dimensione macroscopica anche non rari, ma che tutto sommato non sono niente rispetto ai rockformi minerali in termini di abbondanza, non sono accessori, quindi sono presenti magari in prossimità di giacimenti minerari, per esempio avete, che so, uno che vedete molto spesso nelle mosse è il dioptasio, forma dei bei cristalli, regolari, raro, relativamente raro, ma non rarissimo, ed è un silicato di rame, e quindi lo potete trovare in zone dove sono presenti i giacimenti di rame. Nelle mostre dei minerali ne vedete tanto di dioptasio, perché, diciamo, si vende, ma è un po' iperrappresentato in quelle mostre, quindi molto dioptasio, poco felspato potassico nelle mostre, anche se il felspato potassico è uno dei minerali più comuni nella costa terrestre, è presente in grandissima quantità, quindi quando andate in giro, in montagna ne calpestate molto, in dipendenza anche della zona in cui andate, se anche sulle Dolomiti, per esempio, non ne calpestate molto, ma se andate in altre zone delle Alpi ce ne è molto, magari il 50% del minerale che pestate è il felspato potassico, ma poiché non forma cristalli particolarmente belli, esteticamente belli, non ha interesse collezionistico, è anche troppo comune e quindi nelle mostre non lo trovate, cioè non di meno dal punto di vista scientifico e ben più importante del dioptasio. Ritorniamo un attimo sulla questione della nomenclatura dei minerali, fortunatamente, a parte le specie nuove che hanno nomi dedicati a mineralogisti, i minerali più vecchi, soprattutto i rockform, i minerali hanno dei nomi che prendono un po' dal colore, possono prendere dal colore dell'oggetto, per esempio rubino, così per via del nome, la forma, per esempio il granato, si chiama granato perché forma dei grani, lo ritrovate spesso in forma granulare, così come anche il granito, il granito si chiama così perché è una roccia fatta in grani, però granato e granito sono due cose ben diverse, il granato è un minerale e il granito è una roccia, che tra l'altro non contiene neanche granati, però diciamo il granato è un minerale che prende nome dalla forma che assume il tipico minerale, oppure dagli ambienti tipici in cui si ritrovano questi minerali, per esempio fespato, vuol dire fespato, spato di campo e quindi fa riferimento alla località tipica in cui viene ritrovato il fespato, il minerale medesimo. A fianco a questi nomi non tutti sono minerali, per esempio questo rubino, poi vedremo non è una specie minerale vera e propria, ma è una varietà, ma su questo ci torniamo dopo. A fianco a questi nomi, la parola granato, la parola fespato, non sono nomi di minerali specifici, ma sono nomi di famiglie di minerali, quindi per esempio il granato è un nome assegnato a una famiglia che comprende tutta una serie di termini, il piropo, che ha questa formula cristallochimica, l'armandino, vedete che il piropo e il mandino differiscono dal fatto che uno contiene magnesio, l'altro contiene il ferro, la grossularia contiene calcio, l'andradite è come la grossularia, solo che ha il posto dell'alluminio e del ferro, su questo ci torniamo più avanti, l'uvarovite contiene il cromo, anziché il ferro o l'alluminio, e la formula di questa famiglia può anche essere scritta come X3Y2Z3, dove poi vedremo questo XYZ fa riferimento a siti strutturali del minerale, e X può essere magnesio, ferro, Y può essere alluminio, ferro o anche cromo, e Z tipicamente silicio, ma può anche essere ferro o titanio. Per quanto riguarda le soluzioni solide, è difficile trovare dei campioni puri, cioè che siano costituiti da uno specifico member della famiglia, questi termini vengono anche chiamati member, termini estremi, termini finali. Per esempio è difficile che troviate un piropo di composizione esattamente MG3L263O12, ma è facile, o più o meno facile, trovare un piropo che ha, oltre al magnesio, anche una certa quantità di ferro. E quindi trovate in realtà magari una soluzione solida, piropo al mandino, con anche una certa quantità di calcio, molto arricchita in magnesio, questo è tutto ciò che può capitare. Ce ne sono per esempio sulle Alpi, c'è un cosiddetto massiccio del Dora Mayra, dove sono stati trovati dei piropi giganteschi, nel senso che possono arrivare a dimensioni pluricentimetriche, che sono quasi puri, ovviamente puri non lo sono mai esattamente, ma sono quasi puri. La maggioranza degli altri piropi che trovate in giro, in altre località, invece non sono affatto puri come questo, ma contengono appunto anche altri cationi nei siti strutturali. Un piropo, tornandoci a un granato, diciamo che abbia una composizione di questo genere, potrebbe essere abbastanza comune, lo chiamiamo al mandino, non perché è esattamente costituito da ferro, alluminio, silicio e ossigeno, ma perché nel sito strutturale X contiene una predominanza di ferro, quindi il ferro è predominante sul magnesio e sul calcio, e d'altra parte l'alluminio è predominante sul ferro, nel sito Y, e allora lo chiamiamo al mandino appunto, perché è predominante il ferro sulle altre specie. Poi esistono le varietà, varietà che non sono minerali, ma il nome, la varietà si riferisce al nome, ad esempio il rubino, è una varietà di corindone, corindone è L2-3, ma l'alluminio può essere vicariato, quindi sostituito in tracce da del cromo, allora in questo caso un corindone con tracce di cromo lo chiamate rubino, è una varietà in una specie a sé stante, così come nel caso dei granati che abbiamo visto, perché la sostituzione di sole tracce di cromo al posto dell'alluminio non va a conferire, oltre al colore, delle particolari proprietà, per esempio proprietà strutturali o proprietà termodinamiche. Nel caso del piropo e dell'almandino, per esempio, questi due minerali distinti hanno delle differenze, presentano delle differenze marcate, non soltanto in termini di colore o di chimica, ma questa differente chimica comporta delle differenze di struttura, distanze per esempio del catione che occupa il sito X rispetto all'ossigeno e queste distanze cambiano, quindi i dettagli strutturali cambiano e con loro cambiano anche delle proprietà, per esempio le frequenze vibrazionali degli atomi della struttura cambiano passando al piropo e all'almandino e le frequenze vibrazionali correlano poi con le proprietà termodinamiche, per esempio il calore specifico del piropo è diverso dal calore specifico dell'almandino, non molto diverso, però significativamente diverso, una differenza che fa sì che le proprietà termodinamiche complessive, per esempio le energie libere, cambino da una specie all'altra e quindi cambia anche la stabilità termodinamica di una specie rispetto all'altra in condizioni di pressione di temperatura specifica. Invece, quando avete sostituzioni solo di tracce, come appunto nel caso del rubino e quindi del cromo che va a sostituire in tracce soltanto l'alluminio, non avete un impatto né sulla struttura né sulle proprietà termodinamiche, che tutto ciò che cambia è semplicemente il colore del minerale e quindi non è una specie chimica a se stante, non è una specie chimica nuova, la chiamate semplicemente varietà. E ci sono altre varietà, molte varietà nel campo mineralogico, per esempio lo zaffiro che è ancora una varietà del corindone dove anziché esserci il cromo, che vi carie l'alluminio, avete del ferro, ferro trivalente, il demantoide, che è una varietà di granato in cui del cromo trivalente va a sostituire in tracce il ferro trivalente che è presente nell'andradite, lo smeraldo e l'acqua marina che sono entrambe varietà di berillo, lo smeraldo ha il cromo che va a cariare l'alluminio nel berillo, il berillo è un ciclo silicato contenente alluminio, adesso su questo non entro, lo vedrete poi con il professor Bruno, l'acqua marina ha del ferro trivalente che va ancora a vicariare sempre l'alluminio e questo vi dà una colorazione azzurra mentre lo smeraldo con il cromo ha una colorazione verde, il classico verde smeraldo e poi l'ametista ha una varietà di quarzo anche qui avete delle sostituzioni di tracce di altri elementi che vanno a finire all'interno della struttura. Notate che lo smeraldo dell'acqua marina e il rubino sono tutte varietà in cui la colorazione è dovuta anzi diciamo l'acqua marina no ma diciamo lo smeraldo e il demantoide e il rubino sono tutte varietà in cui la colorazione che si ha specifica al verde o il rosso nel caso del rubino è dovuta al cromo allora il cromo nel corindone dà una colorazione rossa il classico rosso rubino nel caso del demantoide e dello smeraldo la colorazione sembra al cromo ma questa volta è verde come mai si abbiano queste differenze di colore è dovuto a quello che avete studiato probabilmente in qualche corso di chimica in organica a quella che si chiama la teoria del campo cristallino allora il cromo è un metallo di transizione presente alle troni negli orbitali di che splittano in un campo ottaedrico così come sia nel corindone oppure nel berillo e nell'andradite splittano in due gruppi che vengono chiamati T2G orbitali T2G ed orbitali EG la distanza in energia tra gli orbitali T2G ed EG dipende dalla distanza tra il catione cromo e gli ossigeni circostanti e questa è diversa nel granato e nello smeraldo rispetto a quella che abbiamo nel rubino nel corindone energia diversa quindi distanza in energia diversa corrisponde a diversa lunghezza d'onde della luce assorbita quando questa impatta sul minerale sul cristallo e quindi una colorazione differente potete trovare informazioni su tutti i 5.000 minerali conosciuti ad oggi su un sito su cui potete cliccare qui sul link sul sito che si chiama webmineral webmineral.org questo contiene tutte le informazioni sulla chimica sulla simmetria su quelle caratteristiche cristallografiche che poi andremo a vedere più avanti nel corso delle lezioni successive località di ritrovamento proprietà ottiche eccetera sono tutte condensate all'interno di questo sito abbastanza accurato qui c'è tutta una parte sulla mineralogia sulla storia della mineralogia sulle motivazioni che sono la base della storia della mineralogia medesima su cui adesso non entro vi ho raccontato nella prima lezione sincrona in presenza tra virgolette e qui sono scritti in maniera abbastanza dettagliata non le sto a ripercorrere ve le potete leggere però qui dentro i contenuti sono contenute delle informazioni sul perché la mineralogia pur essendo una branca della chimica inorganica è stata ha preso un corso diverso dalla chimica inorganica i motivi per cui la si studia i modelli il framework concettuali con i quali sono interpretate le diverse proprietà dei materiali mineralogici sono diversi da quelli che normalmente si hanno o si utilizzano più propriamente in chimica ma ciò nonostante la chimica la mineralogia è una branca specializzata nella chimica inorganica molto rapidamente i motivi che hanno portato a una differente corso della mineralogia rispetto alla chimica propriamente stretta in quanto tale sono dovuti al fatto che il background delle persone che se ne sono occupate nel tempo era poteva essere diverso in buona misura rispetto a quello dei chimici della chimica inorganica si occupano i chimici della mineralogia si sono occupati e si occupano tuttora naturalisti geologi e in misura minoritaria anche chimici e fisici ma in misura minoritaria io per esempio sono un chimico ma molti miei colleghi non lo sono e quindi molti dei modelli dei modi di pensare dei modelli che si utilizzano per inquadrare la fenomenologia chimica sono diversi in campo mineralogico in campo più propriamente chimico quindi in mineralogia è difficile parlare di elettroni la struttura dei minerali e i minerali medesimi vengono visti come insieme di particelle di cadioni che è trattato in maniera classica semplicemente le sferette rigide con una certa carica e certe dimensioni che sono tenute insieme da forze di carattere elettrostatico senza entrare nel merito delle proprietà dei legami che vengono sempre invariabilmente visti come ionici anche quando ionici non sono per esempio molti dei minerali che andremo a considerare in questo corso sono minerali di tipo silicatico oppure anche carbonati in cui l'anione caratteristico non è uno ione sferico non è l'ossigeno non è un fluoruro non è un cloruro ma è uno ione silicato per esempio che è un osso anione SiO44- o un ione carbonato che è anche questo un osso anione Co32- e l'ione silicato per esempio al suo interno non è tenuto insieme si dice poi in realtà non è proprio così da forze ioniche ma si stando a quel che diceva Pauling il legame si dice ossigeno è un legame 50% covalente 50% ionico almeno questo è quello che si dice nei corsi elementari poi non è così se uno andasse un po' avanti rispetto a quello che è la teoria del legame chimico degli anni 30 fino ad arrivare agli anni 70 all'incirca ma usasse discutere del legame chimico usando la teoria di Badr per esempio che è un pochettino più moderna diciamo dagli anni 70 a questa parte scoprirebbe che il legame silice-ossigeno è da classificarsi sarebbe da classificarsi come ionico e non parzialmente covalente la terminologia ionico parzialmente covalente è un po' obsoleta diciamo ma su questo non entro certamente in questo corso ma ciò non di meno covalente o meno che sia l'ione silicato non è certamente un ione sferico ha una sua conformazione ma nonostante questo viene considerato comunque una sferetta nel complesso da trattare come una sostanza ionica che poi va a mettersi a legarsi ad altre altrettanto ioniche che sono costituite dai cationi chiudo qui la parte su storica diciamo ve la potete leggere e meditarci su però andiamo avanti quello che può essere l'interesse per vedere quello che può essere l'interesse del minerale della mineralogia all'interno di un corso come questo in cui si trattano sia aspetti mineralogici sia aspetti antipetrologici allora vi dicevo all'inizio con il professor Borghi farete una parte di petrologia quindi considerate le rocce le rocce sono costituite da minerali e noi consideriamo una roccia come un sistema multifasico multicomponente che si è equilibrato in maniera diciamo dal punto di vista termodinamico in un dato intervallo di pressione di temperatura allora cosa vuol dire questa cosa cosa vuol dire multifasico multifasico fa riferimento ai minerali presenti nella roccia e multicomponente invece fa riferimento alle componenti chimiche alla composizione chimica degli stessi minerali che si trovano all'interno della roccia quindi questi minerali sono termodinamico e si sono equilibrati in un dato intervallo di temperatura e pressione quindi le fasi ripeto ancora le fasi a cui si fa riferimento nella definizione di roccia sono i minerali che la costituiscono e le componenti sono le diverse specie chimiche che costituiscono nella loro globalità l'intera roccia allora qui per esempio abbiamo una composizione semplificata di un basalto ne sentirete parlare ampiamente con il professor Borghi una roccia effusiva che costituisce una gran parte di fondali oceanici viene fuori dalle dorsali medio oceaniche probabilmente ve ne avrà già parlato parlando degli ambienti geodinamici più comuni e qui avete una tabella in cui si riportano le differenti componenti che potete trovare in un basalto espresse come ossidi quindi silice ossido alluminio mgo ossido magnesi eccetera con la loro percentuale in peso come si fa quindi ad arrivare ad una composizione di questo genere si prende la roccia nel complesso si fa un'analisi chimica di massima cioè si vanno a guardare non le composizioni dei singoli minerali che costituiscono la roccia ma si va a fare un'analisi chimica complessiva dell'intera roccia e quindi si avrà una certa quantità di silicio di alluminio di magnesio di ferro di calcio di sodio li si esprime tutti come ossidi e si ha quindi per esempio una tabella una colonna un po' di parte qui a destra di percentuale in peso di ciascun ossido dopodiché con questo insieme di ossidi con queste proporzioni si va a fare un calcolo per esempio un calcolo termodinamico in un dato campo di temperatura di pressioni e si va a vedere quali minerali possono formarsi con queste composizioni alle temperature e pressioni indicate quindi per esempio se andiamo a pressioni relativamente elevate possono essere stabili le fasi minerali che costituiscono le rocce eclogitiche quindi tipicamente granato e pirosseno poi possono esserci anche presenti del quarzo se invece siamo in condizioni di più bassa pressione e le condizioni a cui tipicamente cristallizzano i minerali dalle rocce dal flutto magmatico che fuoriesce dalle dorsali oceaniche quindi minerali del basalto vediamo che questi sono normalmente costituiti da olivina e da pirosseni quindi questo lo vediamo sperimentalmente cioè il basalto è effettivamente costituito da olivina e da pirosseni ma lo vediamo anche attraverso la modellizzazione termodinamica allora qui per esempio c'è un sistema semplificato calcolato simulando una composizione di 3 MgO più una mole di MgO una mole di L2,3 e 3 mole di sidice e queste componenti insieme con questa stichiometria possono dar luogo a un certo numero di minerali per esempio possono dar luogo a enstatite poi vedremo più avanti che cos'è l'enstatite comunque diciamo un ortopiroseno di cui tratteremo più diffusamente la prossima lezione possono dar luogo al corindone quindi enstatite più corindone oppure in questa stessa proporzione possono dar luogo al granato al piropo Mg3L2S3,12 allora si può fare un calcolo di tipo termodinamico e a bassa pressione e temperature moderatamente alte è stabile l'associazione ortopiroseno più corindone cioè estatite più corindone a temperature e pressioni più elevate invece è stabile il piropo che vuol dire che l'energia libera del piropo in questo campo Pt è più bassa l'energia libera della miscela di ortoestatite e ortopiroseno e corindone e questa linea nera che vedete segnata qui esistono anche altre linee che vanno a delimitare il campo di stabilità di altre fasi sulle quali adesso non entro ma diciamo questa linea nera qui che divide il campo ortopiroseno e corindone è una linea di reazione univariante quindi al di qua nel campo Pt al di qua di questa linea a sinistra verso il basso è stabile l'ortopiroseno e il corindone al di sopra invece è stabile il piropo e esattamente sulla linea e le tre fasi risultano all'equilibrio e appunto la stabilità è data dalla condizione di minimo dell'energia libera di Gibbs quello che fa un petrologo è normalmente intersecare un diagramma di questo genere con un'altra linea una curva qui diciamo semplificata a assumere l'aspetto diretta di quello che è il gradiente geotermico tipico cioè una linea che correla la pressione e la temperatura scendendo verso il mantello scendendo in profondità a partire dalla superficie della crosta fino ad arrivare al mantello la pressione delle rocce ad ogni profondità aumenta perché semplicemente aumenta il carico ritostatico delle rocce soprastanti lo strato in profondità che stiamo considerando e parallelamente all'aumento di profondità e quindi di pressione aumenta anche per ragioni correlate ma non causali aumenta anche la temperatura quindi sappiamo che ad esempio ha una profondità a cui corrisponde una pressione di 10 kB 10.000 bar la temperatura intorno ai 780 K e mano a mano che saliamo in pressione quindi andiamo in profondità per esempio a 28 kB la temperatura è poco sotto i 1300 K quindi tracciamo questa linea e questa linea andrà a identificarci le zone pt effettivamente resistenti all'interno della crosta terrestre per esempio o del mantello superiore quando questa curva questo gradiente geotermico questa curva del gradiente geotermico va a intersecare quella dell'equilibrio tra piropo e ortopiroseno più corindone deve avvenire la reazione dal punto di vista termodinamico perlomeno poi ci sono aspetti cinetici che andrebbero presi in considerazione ma qui trascuriamo quindi quando siamo al di sotto di queste pressioni sotto i 17 kB all'incirca e queste temperature abbiamo stabile l'ortopiroseno e il corindone quando andiamo invece a pressioni superiori e temperature superiori abbiamo il passaggio a piropo e qui il tipo di calcolo fatto come dicevo sull'energia libera per cui qui in questo caso è fatto a una pressione di 3 gpa se andiamo a calcolare l'energia libera del piropo o dell'insieme tre mezzi in statite più corindone che è l'insieme di reagenti da cui si parte per produrre il piropo vediamo che al di sotto dei 500 kB per 3 gpa la curva arancione che è quella delle statite del corindone è più bassa rispetto a quella del piropo cioè l'energia libera di questa miscela statite più corindone è stabile rispetto al piropo ma quando superiamo i 500 kB viceversa la linea blu che è quella del piropo è più bassa di quella delle statite del corindone quindi l'energia libera è più bassa del piropo rispetto agli altri quindi si forma il piropo qui abbiamo un altro esempio abbiamo il sistema andalusite e cianite sono due polimorfi di una sostanza che ha formula AL2,6O5 simboli KY per la cianite andal per l'andalusite e questa è una variazione della energia libera delle due fasi andalusite e cianite al variare della pressione a temperatura costante qui siamo a 600 kB e qui vedete che per esempio a bassa pressione è stabile l'andalusite questa è la sua energia libera più bassa rispetto a quella della cianite ma quando superate circa il 0,15 gpa il gap scal questa è la pressione di transizione diventa più stabile la cianite rispetto all'andalusite potete fare questo calcolo per temperature diverse da 600 kB e costruire quindi un diagramma PT in cui vi si dice che l'andalusite è stabile a pressioni moderatamente basse e a alta temperatura viceversa la cianite è stabile a pressioni più alte e a più bassa temperatura naturalmente per fare questi calcoli avete bisogno di conoscere le proprietà termodinamiche calore specifico equazione di stato entropia eccetera di tutte le fasi minerali coinvolte questa che vi presento in questa slide è la regola delle fasi petrologica che può essere utile per discutere di equilibri nelle rocce delle paragene nelle rocce la regola delle fasi la conoscete e la varianza del sistema che è uguale quindi il numero di gradi di libertà che voi avete a disposizione per descrivere lo stato del sistema il numero di gradi di libertà che potete cambiare in un certo range in un certo intervallo di valori senza cambiare effettivamente lo stato del sistema e sapete che questa varianza è uguale al numero di componenti del sistema meno il numero di fasi più 2 questo più 2 è normalmente riferito alla pressione e alla temperatura due variabili indipendenti con cui potete controllare il vostro sistema la regola delle fasi dovreste conoscerla sapere utilizzare conoscere anche il motivo per cui esiste ve la faccio vedere solo per introdurvi diciamo a quella che è l'uso principale che si fa in petrologia cioè la regola delle fasi petrologiche vedete dove ho messo che nu questa varianza è maggiore uguale a 2 normalmente sempre maggiore uguale a 2 perché è così perché noi normalmente la applichiamo a sistemi rocciosi che hanno una certa estensione nello spazio quindi la roccia si è formata in contemporanea in regioni spaziali che occupano una certa estensione spaziale e non si può pensare che la temperatura e la pressione su un corpo roccioso massiccio massivo esteso si conservino uguali in ogni punto della roccia è probabile possibilissimo anzi quasi inevitabile che esistano dei gradienti di temperatura e di pressione passando da un punto all'altro del massiccio roccioso se esistono delle variazioni di pressione di temperatura da un punto all'altro del massiccio perché quella data roccia quella data associazione di minerali sia presente invariata da un punto della roccia all'altro anche distante magari qualche centinaia di metri bisogna che la varianza del sistema sia perlomeno maggiore di due perché altrimenti se fosse per esempio uno basta cambiare un po' la pressione o la temperatura sull'arco roccioso e questo avrebbe l'effetto di cambiare le fasi minerali presenti cambiare lo stato della roccia perché appunto la varianza è minore di uno quindi se cambia per esempio solo la temperatura il sistema deve cambiare perché appunto la varianza è soltanto uno ma se il sistema non cambia cambiando la temperatura e la pressione la sua varianza deve essere almeno due quindi la regola delle fasi petrologiche è questo C-F più 2 deve almeno essere maggiore di 2 allora questo ha una conseguenza per esempio supponiamo di avere due componenti MgO e SiO2 quindi queste sono le nostre l'ossido di magnesio e l'acidice possiamo avere quante associazioni di minerali allora se mettiamo due componenti qui C allora se supponiamo di avere una associazione di minerali fatta da due minerali quindi periclasio più quarzo adesso do un nome specifico MgO non lo chiamo più soltanto ossido di magnesio e SiO2 non lo chiamo soltanto più SiO2 non lo chiamo ossidice la chiamo quarzo cioè un possibile minerale specifico con quella composizione lì una fase non una componente allora dico due componenti due fasi MgO periclasio più quarzo e quindi avrei C meno F che fa 0 2 meno 2 è 0 più 2 e questo 2 maggiore o uguale a 2 in effetti 2 uguale a 2 oppure e quindi la regola delle fasi petrologiche è verificata perché avrei che NU è uguale esattamente a 2 che è appunto maggiore o uguale a 2 se ho olivina da sola e con 2 di MgO e 1 di SiO2 posso formare l'olivina avrei due componenti una fase più 2 mi fa 3 2 meno 1 più 2 mi fa 3 quindi la varianza 3 è maggiore o uguale a 2 in effetti è vero e quindi posso avere una situazione in cui è presente soltanto olivina stessa cosa posso avere istatite più periclasio quindi anziché formare periclasio più quarzo potrei andare a formare con la stessa stichiometria iniziale 2 moli di MgO e una moli di SiO2 la stessa quantità di componenti posso andare a realizzare un mezzo di istatite più 1 di periclasio ancora due fasi due minerali differenti due componenti quindi NU è uguale a maggiore o uguale a 2 quindi la regola delle fasi petrologiche rispettate per esempio invece una miscela che preveda periclasio quarzo e olivina non è possibile perché una cosa del genere avrebbe tre fasi due componenti più 2 significa 1 e quindi 1 è minore di 2 perciò la regola delle fasi petrologiche non è rispettata quindi in una roccia costituita da queste componenti in questa quantità non può dar luogo a tre fasi di questo genere così come non può dar luogo a una miscela di quarzo per esempio extatite e olivina oppure periclasio più olivina più extatite perché nessuna di queste rispetta la regola delle fasi petrologiche questo è il calcolo termodinamico effettivo che si può fare poi su un sistema di questo genere con questa composizione globale in diverse condizioni di pressione e temperatura e avete vedete la forsterite cioè l'olivina è mg2 6O4 la vasleite che è un polimorfo della mg2 6O4 la rinvudite stessa cosa e poi avete altre associazioni di più alta pressione la chimotoite che è un polimorfo di mg6O3 la chimotoite più periclasio peroschite più periclasio e poi periclasio più stisciovite dove la stisciovite è una fase di alta pressione della sinice i numeretti che vedete scritti qui si riferiscono ai possibili associazioni di quella slide precedente quindi la forsterite 2 corrisponde all'associazione 2 cioè di fatto semplicemente l'olivina e i suoi polimorfi di più alta pressione che sono appunto la vasleite e la rinvudite che vedete scritti qui sempre riferiti al numero 2 della slide precedente 1 periclasio più stisciovite oppure periclasio più quarzo eccetera il periclasio più stisciovite è proprio questa situazione in cui avete il periclasio più quarzo oppure periclasio più uno dei polimorfi di alta pressione della silice possono essere la coesite o anche appunto la stisciovite e peroschite più periclasio associazione 3 dove la avete questa mg2 626 o mg 6IO3 dove al posto dell'estatite avete però un polimorfo di più alta pressione dell'estatite medesima che è appunto questa peroschite da questa parte oppure la chimotoite che è un'altra fase ancora da questa altra parte e qui è lo stesso diagramma votato di 90 gradi in cui metto sull'asse delle ordinate metto la pressione su quello delle scisse metto la pressione su quello delle ordinate metto la temperatura e qui su questo asse in alto questo parallelo all'asse delle pressioni metto la profondità corrispondente a ciascuna pressione e qui è disegnata la geoterma che attraversa questa zona terrestre quindi dalla crosta dalle zone crostali fino alle zone del mantello mantello superiore zona di cosetta di transizione delimitata tra questi due punti e poi il mantello inferiore vedete che quella che era la fosterite stabile a bassa a pressione relativamente bassa 12 gigapascal quindi siamo a profondità 400 km di profondità abbiamo poi il passaggio lungo l'agio termo la vasleite alla ringudite quindi polimorfi di questa sostanza qui e poi abbiamo la reazione di decomposizione della ringudite col passaggio alla peroschite più periclasio e qui sono i disegni delle strutture poi su questi disegni colorati con questi polieri di coordinazione ritorniamo nella prossima lezione e per questa mi fermo qui di